Musica Termina in parità la sfida del Castellani tra Empoli e Crutone. Drago ripropone l'undici di martedì scorso contro il Pescara, unica eccezione tedesca, che finisce in panchina in favore di Ligi, che fa il suo esorto in campionato. L'ex Carboni invece schiera un attacco temibile, formato da Maccarone e Tavano. In avvio di match si rende subito pericoloso Maccarone, ma il suo tiro di testa non è ben misurato verso la porta. La risposta di Pitagorice e Micidiale non lascia scampo ai Toscani, cross dalla destra di Moiello e Sansone trova la girata vincente, portando i suoi sull'1-0. Terzo centro stagionale per il nazionale Under-21. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi, ma creano soltanto un brivido con il solito Maccarone, che di testa, con la deviazione di Bele, colpisce il legno. Nella ripresa, Gabbionetta prova a salire in cattedra e di sinistro va vicino al colpo del KO. Ma i Toscani non mollano e ancora una volta con Maccarone chiamano all'intervento Bele, che manda in corna. Sugli sviluppi dell'angolo è il neoentrato Bouchet, che è in sacca di rete di testa e pareggia per l'Empio. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Carboni sfiora il 2-1 con Micheliz, che prende la traversa con un tiro spettacolare dalla lunga distanza. La gara è aperta e entrambe le compagini cercano di aggiudicarsi l'intera posta in palio. A due minuti dal termine, Pettinari gonfia la rete difesa da Pelagotti sull'assist di Vinetò, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco dell'attaccante Maglia Bianca. Dopo tre minuti di recupero, arriva il fischio finale del signor Tommasi e gli squali salgono in classifica a 26 punti, mantenendo a tre lunghezze di distanza l'Empoli.